Stella del Sudafrica, 83 carati e mezzo grezzo, tagliato 47 carati e mezzo, Lakhbar Shah, 116 carati grezzo. Mi sta ascoltando 007? Lakhbar Shah, 116 carati grezzo. Non vedo signore perché affidare alla nostra sezione un problema di contrabbando piuttosto semplice. Sir Donald ha convinto il primo ministro a farlo. Posso ricordarle 007 che Blofeld è morto? Finito. Il meno che ci aspettiamo da lei ora è un po' di normale, solido lavoro. Buongiorno signore. Buongiorno. Sir Donald li prega di accomodarsi. Grazie. Buongiorno Sir Donald. Le presento il comandante Bond. Lietissimo comandante Bond. Prego si seggano. Grazie. Sherry? Non per me grazie, proibito dal meglio. Comandante Bond? Sì, grazie. Mi hanno detto che è stato in vacanza. A riposarsi, mi auguro. Poco riposo, ma molte soddisfazioni. Bene. Ciccì. Ciccì. Peccato debba rinunciarci, signore. È una solera eccezionale. Del 51, penso. Lo Sherry non è mai datato 007. Infatti mi riferivo all'annata originale su cui lo Sherry è basato, signore. Oh. 851. Senza dubbio. Proprio così. Dico un po', comandante. Lei che ha fatto degli studi approfonditi sullo Sherry, che cosa sa dei diamanti? Beh, è la più dura sostanza che si trovi in natura. Ci si taglia il vetro, invita al matrimonio ed è il migliore amico della donna, come il cane lo è dell'uomo. Fa piacere sentire che esiste un argomento su cui non è un esperto.